power pizza new world l'unico podcast nel quale non c'è più il presidente arancione degli stati uniti siamo tornati nella timeline normale dove c'è semplicemente un governo di centro-destra e non di estrema destra hi joy biden come va a tutti bentornati negli stati uniti normali ciao come va ciao ciao nick ciao sio io sono contro la politicizzazione di questo podcast quindi vorrei semplicemente dire che beh io sono contro la contro dire niente questa frase la rifaccio da zero ciao sio ciao nick come state come va bastando zitti abbiamo rotto il tuo pensiero e quindi ti sei dovuto trovare a cospetto della tua stessa anima ciao non so anche io di cosa dire oggi scusate nick se non sai che cosa dire e lo dico anche a me stesso non diciamo niente semplicemente allora starei sempre zitto la vera domanda che ci dobbiamo fare come ogni settimana è quante pizze abbiamo mangiato questa settimana io ancora zero io ancora zero giusto questa settimana che è iniziata da poco per chi ci ascolta live mentre registriamo è effettivamente zero io invece ne ho mangiate tipo svariate proprio perché l'ultima volta che abbiamo deciso di fare la live aspetta come ne avete mangiate zero abbiamo mangiato della pizza tipo in diretta è vero hai ragione ho mangiato una pizza è giusto in live che quindi vale come due è che avevo rimosso il fatto che tu hai mangiato una pizza scongelandola sul termosifone e quindi quello ha smesso di essere un pasto per me aspetta ma tu non avevi ma anche tu avevi mangiato una pizza quindi nick cioè anche tu ti eri dimenticato questa cosa assolutamente sì che cosa bellissima quindi tutti abbiamo mangiato una pizza io ne mangiate anche altre due dopo di quella perché ovviamente ordinare una pizza è un peccato capitale e ordinarne almeno tre congelarne due è la cosa buona da fare per l'ambiente così si inquina meno meno spedizioni più pizza in freezer wow sei riuscito a girarla in una maniera incredibile sono fiero di te bravo sia e comunque no e inoltre non metto il caricabatterie nella pizza per l'ambiente hashtag iphone ciao ciao grazie per averla spiegata ciao io partirei subito con una buonissima confezione di grissini e che non hanno bisogno di essere congelati inoltre la puntata di oggi è sponsorizzata da storytell quindi grazie storytell more on that later chi vuole iniziare con i grissini di oggi allora io vorrei iniziare con una serie di grissini una serie nel senso un massimo di due grissini no 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 è che il primo grissino risponde a tanti grissini che sono stati pubblicati nel tempo e cioè fondamentalmente come ad esempio ci scrive dario vi ascolto da più di un anno e vi adoro per favore potreste parlare di doctor who mi piace troppissimo come studio sono sicuro che piacerà anche a voi thanks era anche il grissino che volevo leggere io quindi grazie nick e grazie dario ah ok come dario ci sono nella stessa puntata altri tre grissini che parlano di doctor who e in tutte le 116 puntate precedenti ce ne sono altri migliaia ora effettivamente non penso abbiamo mai parlato di doctor who e io ho una ragione io ho anche una sorpresa ma vai prima con la ragione a sto punto io non l'ho mai visto ok era molto semplice ed è una cosa che so esistere da 30 anni a 162 mila serie more like 130 anni ok perfetto wow è raro che io mi sbagli per difetto comunque fondamentalmente è una cosa talmente ciclopica che non mi ci avvicino neanche so che ci sono tanti dottori fine ed è per questo che io oggi ho un regalo per voi ovvero ecco la mia recensione speedy pizza di tutto dottor who cosa serie vecchie mai viste serie nuova con eccleston super cute serie con tenant molto bellina a tratti bella bella le serie con smith capaldi wit taker bravissimi attori persino matt smith che non adoro ma gli showrunner sono dei disagiati sia moffat che chibnall moffat però era bravo quando scriveva e basta meglio se episodi singoli vedi blink del 2007 ecco la nostra opinione su dr w prego non c'è di che wow aspetta moffat è quello di sherlock moffat è purtroppo anche quello di sherlock il problema di moffat è proprio fare lo showrunner non tanto lo scrittore esatto agitando un pugno verso il cielo inglese mentre agito il pugno mi si compongono delle parole a fianco pugno cielo moffat god damn it vabbè e niente questo è quanto io ho un mega grissino di best nome janet cisafrul non so perché mi fa così ridere ah ma ne abbiamo già letti altri suoi tra l'altro la questione è che il grissino è lunghissimo l'ho editato un po però dice un sacco di cose belle tipo da persona ossessionata da lupin quale sono volevo solo dire che la trama di lupin terzo the first ha dell'uso parecchio anche a me secondo me il problema di non essere un film di lupin non sta tanto nelle situazioni della storia ma nel modo in cui le hanno edulcorate e poi ci spiega che abbiamo già visto lupin vestire i panni dell'eroe romantico tipo nel castello di cagliostro decisamente ci sono già i nazisti c'è già pure la tregua con zenigata c'è già stata la questione secondo lei è che hanno mancato il punto chiave delle produzioni su lupin cioè l'effetto sorpresa in questo e mi trovo d'accordo con lei c'è una storiella prevedibile media scontata senza mordente e che ha pure bisogno che lupin si fermi e ci faccia gli spiegoni altrimenti non si capisce niente quindi sì è un peccatone ma per fortuna nel mio prossimo gressino lupin sarà redento per fortuna ma non ve lo leggo adesso ok allora leggo prima quello dello yodel di pippo che ci scrive cosa ne pensate dell'eric andrè show non ne parlerò mai in puntata di sicuro perché tipo è una di quelle cose super sgradevoli ma che per qualche ragione mi fa super ridere assolutamente sì e tra l'altro cioè si presta a una mimificazione incredibile e ci ha regalato bird up che è una delle cose migliori che esistono e di cui non lo scontriva nell'episodio potete trovare una compilation hey you guys are watching bird up hey spaghet no no aspetta spaghetta è di team and eric awesome show great job forse esatto che persone belle e surreali brutte e belle no ma tra l'altro loro l'hai spiegata così bene la questione del tipo è una persona che per qualche motivo cioè il tutto dovrebbe essere disgustoso ma in realtà mi fa molto ridere ed è letteralmente quello che mi succedeva io attivamente non ho mai guardato l'eric andre show ma vivendo con bene con nick ogni tanto capitava che io passassi in sala e lo stavano guardando e io dicevo tipo questa roba è terribile esatto esatto non riesci a non ridere sapendo che non dovresti ridere sì sì e niente questo è quanto quindi in questa sezione christine stiamo recensendo velocissimamente un sacco di cose tutta la mia puntata di oggi sarà così ve lo dico già prima wow wow in un altro grissino che quello di ewats durisson che tra l'altro è il primo grissino dell'ultima puntata dice penso di poter dire di aver fatto una combo sono un manutentore elettrico alla sua prima trasferta e la prima notte di trasferta vi ho sognati non moriva nessuno ma ero tipo ospite con uno dei miei costumi di ganondorf ad una puntata live a soggiorno di seo comics and games ok seo nel futuro dei sogni tu diventi lucca cioè lucca viene chiamata seo comunque in una pausa in cantiere stavo mandando un audio per raccontare il sogno di un amico e un ragazzo mi ha sentito e ha urlato scrivici un grissino spero di tornare in quel cantiere perché abbiamo fatto amicizia ma se non ci torno ti lascio questo messaggio sappi che il grissino l'ho fatto wow che cosa bellissima che storia avvincente wow oh no io mi sono distratto a metà e ho perso il filo della storia però gli elementi che il mio cervello ha registrato sono divertenti quindi grazie per questo grissino ma tra l'altro è una storia avvincente ci sono tutti gli elementi importanti ci sono delle cose oniriche c'è l'amicizia ci sono i cantieri i manutentori elettrici ganondorf i carboidrati i carboidrati perfetto quindi wow grazie amico anche tizio che gli ha urlato scrivici un grissino la vostra amicizia durerà per sempre grazie persone dell'amicizia mi piace che comunque power vita stia diventando ufficialmente il podcast dell'amicizia bello bello sì la vera amicizia era l'amicizia tra l'altro siamo riusciti a fregare tutti con questa faregnaccia non credevo che avrebbe preso piede così tanto la nostra missione completa torniamo sul nostro pianeta ciao nel senso che l'amicizia era vera ovviamente non è qualcosa che ci siamo inventati per vendere questo podcast il forza shadowing che vi avevo fatto prima sul secondo grissino connesso al primo è perché quello di gabriele falasca wow solo persone con nomi splendidi si dice che l'orro hai dimenticato l'ultimo film di koike sul lupen terzo mine no uso che dieci volte tanto la serie su fujico tutti e tre i film di koike saranno su bezos prime dal 23 novembre ah che bello non lo sapevo che è una cosa bellissima non lo sapevo ci saranno il film quello di la tomba di jigen lo spruzzo di gammon il sangue spray di gammon e le scarpe di lupen la menzogna di fujico no è che sono se non sbaglio fatti appunto da koike che è quello che aveva fatto la serie su fujico o no sì e no l'unica cosa che spero che se le mettono su bezos prime siano c'è tipo anche in lingua originale e non solo doppiate in italiano come il film che ti sei visto sì perché sono col cacchio che me le guardo su amazon prime onestamente ti prego però bello che le mettono comunque sì 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 ma il tempo delle menus tipo sapete che hanno finalmente dato una finestra di lancio per la console con la manovella il play date di cui io ciclicamente mi dimentico è vero che di cui ciclicamente qualcuno mi ricorda e quindi nello scontrino dell'episodio trovate l'articolo a cui mi riferivo fare idea perché abbia una manovella e tu continui a usare la parola ciclico è vero hanno finalmente lanciato una data per il play date sono molto felice di questa cosa non mi ricordo già quale sia quindi andrò anch'io a controllare sullo scontrino hanno detto early 2021 yes 2021 stai zitto speravo che lo correggesse l'orro in in post produzione con degli effetti speciali delle esplosioni che facevano in modo che non si sentisse niente di quello che dicevo però scusa oltre a quella finestra di lancio hanno anche fatto vedere degli screenshot di alcuni giochi e sembra incredibile bellissimo tutto non avete visto sì no non ho guardato molto dei giochi in realtà andate a vedere nello scontrino dell'episodio ci sono dei giochi in bianco e nero è letteralmente la console dei miei sogni volevo che ci fosse tipo un game boy moderno con dei giochi indie belli e c'è davvero e in più ha una manovellina inoltre sempre rimanendo in tema di menus nello scontrino dell'episodio trovate link a un articolo di wired in cui praticamente spiegano che un gruppo di ricercatori dell'università di leyden nei paesi bassi praticamente hanno per testare questa micro stampante 3d che stampa cose mega piccole hanno stampato la uss voyager grossa 15 nanometri cosa e la cosa figa è che questa mini voyager si può anche muovere perché tipo ha un rivestimento tale che una volta immersa nel liquido e in sospensione in cui sta si può muovere quindi c'è questa ci sono tutte le foto di questi micro cosi che hanno stampato per test e tra queste varie cose tra cui anche la solita benchy the boat sai la barchetta che stampano per testare le stampanti in 3d tra queste cose c'è anche la uss voyager super piccola e super carina wow mi piacciono tantissimo le cose piccolissime anche se probabilmente le rompo in generale credo che sia troppo piccola perché tu la possa rompere onestamente a me invece piace tantissimo che ci siano una serie di persone in giro per il mondo che sono super affezionate e ossessionate e appassionate di determinate cose in questo caso tipo di star wars di star wars esatto esatto e che poi diventano dei super scienziati e cento anni dopo gli viene data la possibilità tipo beh dobbiamo testare questa stampante non sappiamo assolutamente cosa stampare e vedi gianni che finalmente alza la mano lo so io e tutta la vita che mi preparo a questo momento esatto tra l'altro mi viene da dire è bello perché star trek nel suo essere comunque ingenuo e datata come serie ha ispirato un sacco di scienziati veri sono curioso di vedere le serie moderne di star trek quanti scienziati ispireranno nel futuro tutti negazionisti hashtag sparare e basta anti vax ma di star trek parliamo dopo ovviamente potremmo fare un raggio di sparare o un raggio di sparare gigante jeff bezos junior sei un genio c'è un virus sparagli esatto wow che cosa bellissima io invece volevo tra le mie news volevo rientrare finalmente in una dimensione che mi è molto comoda che è quella del fatemi flexare su persone che conosco a melbourne che fanno cose incredibili perché era un pochino che effettivamente non lo facevo e mi sentivo sconnesso dalla mia città delle conoscenze e invece e invece l'11 novembre anche in italia arriva su netflix arriva melbourne esatto arriva melbourne la città abbiate grasso è stata abolita da domani al posto di abbiate grasso melbourne che è dove ci sarà seo comics and games esatto allora l'11 novembre arriva su netflix auntie donna's big old house of fun ora gli auntie donna sono un trio di slapstick comedy super mega iper bravi e stranissimi cioè loro sia dal vivo che su youtube dove poi hanno iniziato ad avere parecchio seguito sono tra le cose più strane a livello di comicità che io abbia mai visto uo adoro strano e sono assolutamente la comicità dell'assurdo yes completamente dell'assurdo cioè hanno delle cose che ad esempio per noi power pizzettari sono proprio piacevoli tipo la ripetizione ossessiva di una cosa finché non fa ridere wow urlare tantissimo è la cifra stilistica di si wow esatto ma io già anni fa infatti gli dissi ti prego seguiti i video di questo gruppo di persone che sono super bravi e che hanno iniziato ad avere un grande seguito sono poi andati in america e adesso finalmente su netflix in tutto il mondo esce appunto l'undici di settembre l'undici di novembre la loro prima serie che sono anziché essere uno speciale di stand up sono una serie di sketch e sono fatti benissimo e anche soltanto a guardare il trailer mi sono pisciato addosso dal ridere io non vedo l'ora di poter vedere questa cosa anche perché appunto uno era pseudo vicino di casa recentemente uno lo conosciamo benissimo li abbiamo visti mille volte quindi tipo come al solito rubrica di persone che conosco fanno cose belle io sono molto fiero finalmente se volessi vedere qualcosa di loro quindi dove posso recuperarlo ci sono tipo dei link che posso droppare nello scontrino assolutamente oggi voglio riempire lo scontrino di link assolutamente sì hanno un canale youtube che si chiama ontidonna che poi vi linkerò ci sono tantissimi video quindi ne avete per almeno un buon pomeriggio slash pomeriggio serata da guardare tutto quello che hanno fatto perché hanno prodotto veramente tanta roba e fa molto cringe e fa molto ridere fa molto non ha nessun senso e poi dovete aspettare l'undici di novembre su netflix per l'uscita della serie ma abbiamo una sorpresa per voi l'undici novembre era nel passato quindi trovate la serie già su netflix prego non c'è di che che bello quasi quanto gli organismi marini eh cosa quali organismi marini hai guardato my octopus teacher no 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 non my octopus teacher e dopo ho delle domande da farti ma my octopus policeman che cosa hai guardato my octopus politician scusa ma mi sono immaginato una città sottomarina popolata solo di piovre con dei vestitini buffi o dei cappellini buffi fare dei vestiti per una piovra sarebbe un casino per tutti quegli arti che ha però gli poi ha un sacco di testa per un sacco di cappellini buffi scusa vai avanti con quello che stavi dicendo brooklyn bloob bloob il nuovo il nuovo spin off allora scusa allora volevo ricordarvi che nella puntata 102 vi ricordate che abbiamo parlato di un pesce che stava giocando a pokemon rubino ha finito a si ha finito mi ero dimenticato di segnarmelo ha finito ha finito grande dopo 3000 ore tipo dopo 3000 100 ore di gioco è riuscito a finire il gioco in questo momento stanno cercando secondo me non era il pesce iniziale non so che aspettativa di vita abbiano quei pesci ma 3000 e 100 ore quante sono 3000 ore non è tanto è tipo un mese ma infatti aspetta non sono ma certi pesci vivono tipo mezza giornata e basta vivono 5 minuti i pesci forse non hai mai dato da mangiare o l'ossigeno ai tuoi pesci durano un po' di più in teoria no comunque volevo solo congratularmi con il pesce mio preferito della vita complimenti per questo achievement il bello è che è diventato tipo una persona una persona non è diventato una persona ma è diventato un personaggio di fama internazionale però se ci pensate non lo sa nemmeno è un po' triste purtroppo questo pesce non lo saprà mai è vero quindi thank you for your service ma egli vivrà nei nostri cuori per sempre almeno fino a tra 5 minuti quando non ci dimenticheremo di lui e di tutta questa faccenda di cosa? il mio cervello tra l'altro comprende come sia stato possibile che un pesce abbia finito pokemon ma no cioè ugualmente se mi ci fermo a pensare non ha nessun senso lo so lo so 3100 ore sembrano così poche e quella è la cosa assurda esatto 3100 anni mi sarei immaginato una di quelle cose tipo se prendi infinite scimmie infinite macchine da scrivere infinito tempo un giorno a caso una scriverà Shakespeare però cosa? eh 3000 ore wow penso di averci messo di più io da piccolo sì esatto 3100 ore non sono neanche 130 giorni così voglio dire facendo un calcolo veloceamente quindi è veramente poco è vero è vero thank you for your service persona che è un pesce che ha attaccato un pesce a un gameboy ah no ok grazie al cielo nessun pesce è stato attaccato a un gameboy per fare questa cosa era semplicemente nel suo simpatico acquario diviso in settori con un cavo usb dentro anche perché non penso che avrebbe funzionato cosa mi ferma da dividere la mia casa in settori e di riprendermi costantemente mentre mi muovo per casa e di vedere se riesco a finire un gioco in maniera totalmente involontaria la voglia la voglia ti ferma la voglia però è l'unico ostacolo per realizzare questa cosa in realtà è un ostacolo bello grosso però sì è vero è vero sì è un grosso problema comunque grazie Sio per esserti ricordato di questa cosa di cui io mi ero dimenticato ma sapete cos'è bello scusate nick allora i videogiochi sono bellissimi ma sapete cos'è più bello dei videogiochi scoprire nuovi videogiochi utilizzando come base di ricerca quelli che apprezzate di già ok sì è un buon modo per cercare nuove cose effettivamente quindi anche per il nostro pesciolino eroe dei pokemon questo consiglio potrebbe essere sensato l'altro giorno stavo cercando di decidere che cosa avrei streamato ora che ho finito Ori and the Will of the Wisp su Twitch quando sei stato improvvisamente interrotto da un CEO che ti diceva che questa puntata era sponsorizzata da Storytel in ritardo di 24 minuti anzi voi che state ascoltando questa puntata vi dirò di più voi avrete già sentito che questa puntata è sponsorizzata da Storytel perché adesso registrevo una frase che poi io metterò all'inizio il potere del time travel abracadabra la frase che era qua ora è all'inizio della puntata magic ok no fondamentalmente l'altro giorno mi trovavo in questo cetriolo dove non sapevo scegliere quale gioco giocare su Twitch ora che avevo finito Ori and the Will of the Wisp e quindi ho detto tipo ah se solo ci fosse un sistema che mi fa mettere i miei giochi preferiti tutti insieme e poi mi dice tipo ehi se ti sono piaciuto tutti questi potresti giocare a questo cosa che non sia tipo la cosa normale di Steam con le recommendations eccetera eccetera esatto che era quello che stavo per dire super prevedibile no e invece The Quantic Lab ha fatto un videogame recommendation engine ma cosa e funziona benissimo sì anche perché tutti i giochi sono tutti uguali e fondamentalmente è un sito lo trovate nello scontrino dove ti chiede di inserire tre giochi ah solo tre ah solo tre wow soltanto tre e poi ti dà una serie di otto giochi che possono essere divisi fra li voglio più indie e sconosciuti li voglio più mainstream o un misto fra i due e funziona benissimo ho inserito una serie di combinazioni di giochi per vedere se effettivamente riusciva a consigliarmi delle cose che mi piacessero e ti propone sempre Minecraft a prescindere da quello che metti Call of Duty Minecraft è il gioco più popolare del mondo piace a tutti è una super figata tanto che adesso vorrei dire Sio dimmi tre giochi che ti sono piaciuti tantissimo aspetta Plock esatto perfetto c'è Plock c'è Plock certo che sì ok ok allora Plock Phoenix Wright tre giochi super diversi Smash Bros metti Dark Souls per confondere fermi 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 quale Phoenix Wright ah il terzo Spirit of Justice Trials and Tribulations Dual Destinies o Trilogy HD vabbè Trilogy i primi tre mi piacciono molto Trilogy un terzo gioco Smash Bros Ultimate Dark Souls no ok Smash Bros Ultimate Submit vediamo che giochi darà darà frego che sia qualcosa di sbagliatissimo vabbè sono giustissimi che ridere giustamente dice nella versione bilanciata dice Super Mario Maker 2 bello mi piace Tetris 99 Pokemon Shield Luigi's Mansion 3 Fire Emblem Three Houses Pokemon Sword Dragalia Lost Xenoblade Chronicles 2 Splatoon 2 Dragon Ball Fighters non sono così giusti per Sio sì sono giochi che mi piacciono cioè sono giochi che non ti farebbero schifo ma non sono giochi allora i giochi lunghi non li giochi perché non hai tempo e ti stufi prima quindi già tipo quelli JRPG li togliamo poi aspetta cos'è che c'era ripetemi un attimo wow adesso l'ho tolto però ho messo giochi di nicchia e giustamente mette Rivals of Aether sì la copia di di Smash l'ho appena comprato esatto funziona quindi tutto questo per dire io inizio a giocare a un altro roguelite Metroidvania con i pixel le armi range e fine giocherò sempre allo stesso gioco per sempre e come si chiama? si chiama Scourgebringer e lo inizierò oggi wow cioè due settimane nel passato per voi che state ascoltando questa puntata esatto andate su Twitch a vedere i nostri video su powerpizza.stream comunque è un bel sistema lo consiglio e sono curioso di vedere se effettivamente farà conoscere ad altre persone dei giochi che non conoscevano e che apprezzano sì adesso sono un po' scettico ma anche scettico tipo curioso vorrei vedere però con te diciamo è particolarmente facile perché onestamente i giochi che ti piacciono Nick sono tutti estremamente simili quindi è più facile proportene uno simile un'altra volta beh io avevo messo Hollow Knight Celeste e Ori quindi cioè nel senso ci sta però non sono uguali fra di loro no non sono lo stesso gioco ok è vero è nice comunque che figata che abbiano fatto questa cosa e chi è che l'ha fatto? l'hanno fatto dei hackers spero di sì no sono soltanto che è una cosa che si chiama Quantic Lab ok è un laboratorio quantico a giudicare dal nome ah il laboratorio quantico ecco perché sono così intelligenti i quanti sono molto più forti arriviamo al punto di parlare di contenuti ora che le menu sono finite ah sì giusto ah credevo che fosse un contenuto questo ok infatti lo era in realtà cioè è un ottimo suggerimento come cosa da testare ma non voglio avere altri suggerimenti di videogiochi ogni videogioco che compro non ci gioco vi prego datemi del tempo per giocarci su twitch.it slash powerstream cosa? ovviamente se questa cosa vi suggerirà delle cose molto giuste o molto sbagliate fatecelo sapere nei grissini please va bene raga allora facciamo così uno di noi dice una cosa poi parliamo di storytell poi uno di noi dice un'altra cosa poi un terzo dice un'ultimissima cosa poi un finale e poi after show e poi tutti a casa e anche oggi ce la siamo portata a casa dai wow geniale dai ho pensato grande ping cling cling rumori ciao amici gif di rene ferretti ce la portiamo a casa ok chi vuole iniziare dai 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 loro vai oddio io avevo una cosa un po' lunghetta ma visto che siamo già lunghi oggi cerco di super comprimere di allungarla facendo delle premesse lunghissime come ti ha già detto sì una volta se mi interrompi la premessa sarà ancora più lunga mi sento così punito classic noi quindi quello che volevo dire è vaffanbrodo al mondo che mi fa diventare più moderato di quello che vorrei essere what perché oggi ero arrivato bello carico perché mi sono guardato l'inizio le puntate che sono uscite fino adesso di discovery la terza stagione smettila no soltanto che ero arrivato bello arrabbione e in realtà poi mi sono già attenuato dannazione di base potete già immaginare quello che ho da dire perché ripeto sempre le stesse cose a prescindere di che cosa stia parlando ma io ho una memoria terribile allora star trek discovery la terza stagione la storia la sappiamo già e se non la sapete sapevatela è un cacao perché ci sono già due stagioni prima e la storia è collegata equipaggio di questa astronave la discovery viene proiettato nel futuro tipo di mille anni quindi anno 3000 e tot oh no mille anni sono un casino di anni sì esatto e ovviamente anche questa stagione è una versione instupidita e di superazione di star trek ma con una produzione super figa perché cioè sembra un lungometraggio a livello di produzione io non ho idea di quanto ci mettano a girare un singolo episodio ma di sicuro più della canonica una o due settimane delle serie di una volta cioè perché hanno veramente un production value di tutto rispetto ma tolto l'aspetto visivo che cioè è di sicuro impressionante quello che rimane a livello di scrittura cioè è veramente banalotto ci sono anche dei personaggi che non mi dispiacciono solo che la sensazione che hai costantemente è quella di non stare guardando una nave di iper scienziati ma dei tizi tipo usciti da baffi detto non in senso complimentoso in questo caso quindi ho iniziato a guardarmi sta terza stagione e ero super arrabbiato nella prima puntata solo che man mano che andava avanti nelle prime quattro puntate ha preso posto solo la stanchezza e tipo questo sentimento di malinconia e quindi scusami mi sentivo non interrompermi e mi stavo iniziando a preoccupare io sto disegnando un polpo con una pistola viene fuori che l'arma più efficace era il non interromperti cento per cento no però tra l'altro è incredibile come tu oggi abbia questa versione molto moderata e tranquillina nel trattare l'argomento quando due giorni fa mi hai chiamato pieno di astio e di bile hai iniziato a vomitarmi nelle orecchie dicendo tipo è la cosa più brutta che abbia mai io gli odio io gli tiro i pugni li investo in macchina prendo la patente apposta no ho detto investo in auto Alex Kurtzman unica cosa per cui non mi sono rimangiato la parola e sono ancora convinto di quello che ho detto non fallo lorro sì avvocati di Alex Kurtzman ci state ascoltando è una battuta occhiolino alla polizia postale soltanto che nonostante la violenza completamente a babbo i dialoghi che sono fuori luogo questa over dipendenza dagli aspetti emotivi che sono sempre usati come una stampella per una narrativa che non è solida non lo è mai stato in discovery è un neufemismo in realtà dato che c'è la seconda stagione era puro lol però questa terza stagione ha dei momenti che al cuore sono vagamente star trekkeggianti solo tipo una versione più basica e stupida cioè i costumi no nel senso che non parlo di aspetto visivo parlo proprio di sostanza tipo che i primi due episodi mi hanno lasciato veramente me il terzo episodio che tra l'altro è diretto da Jonathan Frakes il William Riker di TNG addirittura risolvono dei problemi parlando tra di loro incredibile ma non ha senso questa cosa ma non si sparano neanche una volta si sparano comunque moltissimo però ci sono delle cose che ti fanno dire forse qualcosa c'è però sembra sempre la versione per bambini di quello che era star trek ma tu non sei un bambino in fondo nel cuore no no non lo sono neanche da bambino non lo sono mai stato mai persona fu più sicura di non essere un bambino di lor e in più cioè che tipo prima che iniziasse a guardarmi il terzo episodio qualcuno mi aveva anche scritto ah si figo perché tipo nella terza puntata introducono un personaggio non binario e io sono tipo diventato instapaonazzo perché se c'è una cosa che mi dà sui nervi è l'inclusività usata come pezza per nascondere i problemi a livello di scrittura è una cosa che mi fa andare via di testa perché per come la vedo io solo la mia opinione tu puoi avere un cast iper vario finché vuoi a tutti i livelli ma non può sostituire una scrittura valida no anche perché spesso se usi queste cose a caso diminuisce invece il valore di quando le usi bene esatto perché sono molto importante queste cose di inclusività quando sono fatte con il cuore e bene esatto non le puoi usare come uno specchietto per le allodole cose che invece spessissimo viene fatto sì tra l'altro le allodole sono stupide fanno schifo è vero dannate allodole scusa è che hai questa faida a quei delfini e sono molto invidioso della tua faida cioè riesci a fregar letteralmente con uno specchio sono gli animali più stupidi del mondo riusciresti a fregare anche noi con uno specchio probabilmente certo che sì certo che sì hanno fatto letteralmente dei parchi gioco in cui c'era la casa degli specchi e gli esseri umani erano mind blown da questa cosa è per questo che non entro mai in bagno la casa di Sio ha tutti gli specchi rotti ogni volta che vede uno specchio si sa che opera del demonio e vabbè fatto sta che insomma per chiudere tutto sto pippone mi guardo sto terzo episodio e allora intanto la cosa di questo personaggio non è assolutamente tipo centrale non è assolutamente evidenziato sottolineata dall'episodio semplicemente è un personaggio che è lì e basta in più tipo quello che dicevo prima risolvono dei problemi in una maniera poi sparano anche un botto e si prendono a pizze in faccia però c'è anche qualcosa che ti ricorda un po' Star Trek e purtroppo mi sono reso conto che devo fare i conti una cosa che si dice tra Trekker è molto vera lunga pace e prosperità sì sì quello senza dubbio alla fine della salita c'è la discesa sì sono entrambe cose bellissime i Trekker però è sempre vero che oh no ero quasi alla fine portami una bottiglia d'acqua metti un kiwi nello zairo ma è anche vero che Star Trek è sempre stata un po' espressione degli anni in cui veniva girato e quindi non puoi pretendere che Star Trek degli anni 60 sia TNG come questo sia come che ne so DS9 cioè un minimo di margine di gioco bisogna darglielo cioè stagioni super schifo come la seconda che erano proprio scritte male sono un grosso no però mi è tornata un pochino la voglia di dire gli do il beneficio del dubbio non sono di sicuro io il target giusto ma magari dentro qualcosa di positivo a livello di rappresentazione a livello di cuore di sostanza magari c'è e quindi di sicuro non mi piacerà e continuerò ad essere ipercritico verso il modern Trek però lo inizio a prendere più come un parere mio che non come una verità assoluta quindi brava realtà che mi ha fatto ammorbidire dannazione sono diventato un debole no va bene cambiare le opinioni è forza è forza non debolezza lorro solo i deboli cambiano idea i forti hanno la coerenza nei pugni fine di questa recensione di Star Trek discopri le prime puntate sai che altro è forte come un pugno Storytel è forte è forte perché ogni volta che ascolto un audiolibro dico che forte questa tecnologia allora ciao amici Storytel ti prego continua a darci dei soldi anche se le nostre sponsorizzazioni sono una schifezza esatto una schifezza memorabile per questo ci sponsorizzano perché noi vi rispieghiamo ogni volta perché non capite niente che cos'è Storytel esatto non la state imparando esatto dannazione Nick che cos'è Storytel Storytel è un servizio di all you can listen dove potete ascoltare centinaia di migliaia di audiolibri per una modica cifra al mese di 9,90€ se non sbaglio 9,99€ o qualcosa di simile 9,99€ è aumentato di 9 centenze no è sempre stato così no e fondamentalmente ci sono un sacco di libri sono in tantissime lingue se ascoltate tanti libri in tante lingue diventate molto più intelligenti di me e quindi tipo non fate delle figure come quelle che faccio io in questo podcast di soldi non ti buttare giù Nick e soprattutto Storytel lo potete provare per 15 giorni se siete delle persone comuni dei plebei che girano per questo pianeta senza meta mentre invece se siete delle persone che ascoltano Powerpizza quindi già a un livello superiore della conoscenza potete andare su www.oleorecchiepienedilorro.com e avere 30 giorni di All You Can Listen e parte subito ed è subito gara di quanti libri riuscite ad ascoltare in 30 giorni se riuscite ad ascoltare più di 30 libri in 30 giorni mandateci una prova della vostra impresa e costruiremo una statua alta 100 km in vostro onore non lo faremo scusate non basteranno mai tutti i nostri soldi messi insieme per una statua alta 100 km e non basterà neanche tutta la tecnologia umana ma per fortuna c'è un sacco di fantascienza su Storytel che vi potete ascoltare e non è neanche una cosa così assurda ascoltarsi 30 libri in un mese perché appunto un audiolibro può durare tranquillamente tipo 6 ore e 33 minuti come Il Paradiso degli Orchi il primo libro di Malausen lo conoscete? oh che bello da quanti anni non lo rileggo? no cosa? madonna pennac super consiglione grande sio cioè letto tra l'altro da Claudio Bisio ma va wow ok ha interpretato Malausen nell'opera teatrale quindi bellissimo è uno dei miei libri preferiti Il Paradiso degli Orchi ve lo super consiglio fa straridere Daniel Pennac che gli voglio bene è tipo Stefano Benni ma più francese ha il 100% di francesità in più ha tantissima francesità in più è strabello Il Paradiso degli Orchi è proprio il primo libro delle avventure del signor Malausen aspetta è il primo o è il secondo libro? adesso mi viene il dubbio ormai abbiamo detto che è il primo quindi è il primo ci sono entrambi esatto c'è sia la prosi vendola che il Paradiso degli Orchi su Storytel però io dico Paradiso degli Orchi ok a costo di sbagliare ve lo straconsiglio è mega bello divertente vi prego se lo ascoltate slash leggete scrivetemi perché è un sacco di tempo che non parlo con nessuno di Pennac è bello Pennac ok ci sono anni che non lo rileggo potrei adesso ascoltarlo wow allora ci risentiamo su queste frequenze frequenze tra virgolette con te si o per parlare dei Malausen figo si si che bello e voi cosa aspettate correte ad avere 30 giorni di all you can listen su o leorecchiepenedilorro.com e grazie Storytel quindi per aver sponsorizzato anche questa fantastica puntata del podcast dell'amicizia powerpizza.it punto amicizia no io volevo dire soltanto che stavo cercando dei libri di Star Wars e di Star Trek per legarmi con un sapiente segue al mio argomento successivo e in realtà ho trovato tantissimi libri di entrambi ma soprattutto c'è Star Wars versus Star Trek The Empire Keep the Federation's Ass che deve essere il mio libro preferito fa ridere perché l'impero non potrebbe mai cioè neanche avvicinarsi alla federazione perché l'impero è una cosa completamente random e disorganizzata laddove la federazione è una cosa assolutamente organizzata e gestita da persone intelligenti scacco matto Star Wars scusa andiamo avanti beh il mio segue porta al fatto che vorrei un attimo aprire una piccola parentesi non è vero è che qualcuno ha detto che non chiudo mai le parentesi e quindi ora ne voglio aprire di più no vorrei parlare un secondo di The Mandalorian Season 2 perché lo so che la scorsa puntata è stata grazie sponsorizzata da Mandalorian ma io ero letteralmente in fotta per guardarlo e ora che sta uscendo lo sto guardando di settimana in settimana ne sono usciti due episodi finora e volevo dire una cosa cioè è veramente un ottimo esempio forse addirittura più di quanto non fosse il primo di un'odissea nello spazio un'eneide nella galassia nel senso è una serie di storie di viaggio che sono ambientate all'interno del mondo di Star Wars che conosciamo da altre mille cose ma dove se in un film di solito ogni singolo elemento che ti viene presentato cerchi di inserirlo all'interno di un questo servirà a capire la trama di tutto l'arco della narrazione oppure no questa cosa tornerà dopo oppure no cioè in Mandalorian stanno facendo secondo me è un ottimo lavoro perché ogni episodio è una piccola narrazione a sé stante chiusa cioè è episodico come erano episodiche tipo le serie di 15 anni fa tipo prima che iniziasse a diventare tutto un'unica trama orizzontale spalmata per intere stagioni sì più o meno sì secondo me hanno trovato una formula super vincente dove c'è un qualcosa che si va cercando quindi sai che Mando è motivato in una direzione ma si chiama Mando lui? sì ah cioè lo chiamano Mando ok adesso ho capito Mando Mondays ah perché god damn it no perché ho detto Mandalorian perché non li hanno chiamati Manda Mondays aveva più senso ma se lui si chiama Mando ha senso ok ciao no e volevo soltanto dire che appunto lui sta cercando qualcosa ma ogni episodio cioè succedono delle cose senza che siano quella che risolve tutto oppure che ogni cosa che succede è una cosa fondamentale per la trama per andare avanti quello che sto apprezzando è che almeno nei primi due episodi ci sono delle storielle succedono delle cose sono tutti degli diciamo tipo delle side quest che deve fare perché fondamentalmente per avere tipo delle informazioni o per avere qualcosa che sta cercando se lo deve guadagnare oppure deve fare una deviazione per poter arrivare a quello che sta cercando ed è fatto molto molto bene io tutte le volte nonostante non sia niente di trascendentale finisce l'episodio e sono contento mi dà una sensazione che mi piace tantissimo quindi non posso dare ovviamente un voto ancora ma sono proprio contento di come sta andando questa seconda stagione di Mandalorian oggi stiamo praticamente recensendo senza recensirle delle stagioni all'inizio che forse sono meglio di quello che sembravano sì cioè tranne che ok The Mandalorian sembrava già bella Star Trek Discovery no e quindi fine bravi complimenti anche Mandalorian fa parte del nostro Power Selection troverete sul sito powerpizza.it tutti i Power Select e alla fine dell'anno vinceranno wow cos'hai hai mangiato una televisione vinceranno vinceranno i Power Premi le migliori serie dell'anno e del decennio facciamo una facciamo una una premiazione di Power Pizza a fine anno ci sto tantissimo assolutamente tipo i telegatti dei poverissimi yes yes ti prego oddio esce una puntata a Natale facciamola quella puntata lì o esce una puntata a Capodanno facciamola quella puntata lì ancora meglio facciamola entrambe oh no dovremmo andare a ricordarci di che cosa abbiamo parlato in tutte le puntate prima io mi dimentico tipo tutto presto powerpizzapedia.com esatto se solo qualcuno non avesse fatto un sito non è aggiornata si è aggiornata no se vai su videogiochi c'è solo Hollow Knight noi parliamo tantissimo di videogiochi dannazione beh ma il più importante c'è ok fantastico me lo segno tantissimo i Power Awards troveremo un nome dopo magari workshoppiamo un nome si o ce ne dimenticheremo subito di cosa di dimenticare di cosa io volevo parlarvi oggi invece di alcuni problemi che ho con un filmetto che ho visto vai posso? certo vai allora intanto volevo ringraziare mio figlio che ha sponsorizzato il pomeriggio in cui ha dormito tutto il tempo del film e durante la fine del film cioè sono arrivati i titoli di coda si è svegliato è stato un momento bellissimo quindi grazie da quel giorno non ha mai più dormito però ha gli occhi rossissimi adesso ma perché gli ho messo lo smalto no ho visto un filmetto di un attore smaltoperocchi smaltoperocchi.com ho visto un filmetto di un attore che secondo me farà carriera praticamente non so se l'avete visto il film si apre parlando di questo tizio che è un incrocio tra Jeff Bezos Steve Jobs 40 Bill Gates che però di lavoro vende armi è ricchissimo intelligentissimo cucca di brutto inventa delle armi fortissime un giorno fa un'esercitazione ho realizzato adesso viene rapito e nel frattempo un medico misterioso gli salva la vita mettendogli un magnete nel petto solo che è scomodo perché deve portarsi via una batteria tutto il tempo allora con delle viti e un po' di sassi costruisce un cacchio di reattore nucleare e se lo mette nel buco di un metro che ha nel petto bene da quel momento ho visto Iron Man grazie per averlo detto ho visto Iron Man ho visto Iron Man per la prima volta non l'avevo mai visto ripeto quello che dissi quando ce lo comunicasti su Telegram sempre sul pezzo sì sempre sul pezzo qualcuno aveva anche scritto che imbarazzo potevo essere io ora che ci ripenso comunque vai avanti allora da quel momento dall'incipi del film il film diventa tutto un cercare di capire che questo tizio non muoia nonostante abbia un buco enorme nel petto e sì che tu di sospensione di incredulità dovresti averne parecchia voglio dire ne ho ma questo film è molto poco realistico ecco un elenco di problemi che ho con questo film stai zitto aspetta aspetta ti è piaciuto o non ti è piaciuto è la domanda che ti devo fare prima di tutto lo scoprirete alla fine del film alla fine della recensione ti interrompo più no no ma puoi interrompermi quante volte vuoi è che non volevo svelarvi se mi è piaciuto allora innanzitutto una cosa che ho notato subito è che non passa assolutamente il test di Bechdel lo conoscete il test di Bechdel assolutamente no ti stavo per chiedere e quello come ci si riferisce ai personaggi donna è una misura delle rappresentazioni femminili in un film perfetto allora sì ho presente puoi passare o non passare il test di Bechdel semplicemente perché devono esserci tre criteri aspetta è ovvio che Iron Man non passi il test beh Iron Man 2 Iron Man 3 lo passano però l'uno no i tre criteri sono per chi non lo conoscesse uno devono esserci almeno due donne nel film due devono parlare tra di loro e tre devono parlare di qualcosa che non sia un personaggio maschile che non siano gli uomini fa ridere perché non fa ridere ovviamente non fa assolutamente ridere sto ritacchiando perché non fa ridere però la questione è che non so io noto molto questa cosa ce l'ho sempre in mente quando guardo un film e ci sono alcuni film che lo passano immediatamente questo film ovviamente c'erano un sacco di personaggi maschili a un certo punto c'erano due personaggi femminili io ho detto magari parlano di scienza di cose si sono messi a parlare di Tony Stark e poi nessun altro personaggio femminile ha mai parlato più con nessun altro personaggio femminile quindi vabbè quella un lato negativo poi Tony non si capisce mai come non muoia nelle scene in cui cade dal cielo sulla sabbia si schianta sul muro airbag no airbag dentro l'armatura no ha scostruito un'armatura zitto nel finale tra l'altro esplode tutto e lui siccome è girato dall'altra parte non gli succede niente airbag 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 ok ma effettivamente è una delle grandi soluzioni di Marvel wow sto film è lunghissimo sto riguardando adesso la faccia in IMD2 126 minuti what the fuck cosa si poi c'è un'altra cosa la spiegazione del reattore nucleare nel petto all'inizio del film è il reattore Ark esatto ok non è un reattore nucleare è un reattore magico è che all'inizio era che ok hai una bomba con delle schegge nel petto con un magnete te le tiene lontane dal cuore puoi sopravvivere ok solo che dopo 5 secondi diventa hai un cuore magico usb e la gente glielo stacca varie volte lui muore dopo pochissimo vabbè oddio c'è anche da dire che non è che ti serva il cuore per vivere cioè non è il cervello questo è vero lo puoi togliere e rimettere esatto non è la milza o robe simili esatto bravissimi vabbè poi allora c'è una scena con cui ho vari problemi c'è a un certo punto Tony è lì arrabbiatino gli prende il matto e va in Afghanistan volando dagli Stati Uniti allora ho fatto dei calcoli flightcharts.com allora Iron Man a malapena riesce a tenere la testa a un caccia ok come velocità la velocità massima di un caccia ma massima cioè proprio che deve essere in alta quota ignorando che siano in bassa quota però la velocità massima di un caccia è 2480 km all'ora ok è tantissimo ma la distanza tra gli Stati Uniti e l'Afghanistan sono 12.000 km anche approssimando sono 6 ore no sono tipo 4-5 comunque si fermerà una volta all'autogrill scusa all'acquagrill mi dia un camogli e una ricarica esatto è un altro generatore nucleare esatto allora in quelle 4 ore lì come si è idratato si è portato qualcosa ad ascoltare tipo un audiolibro di story airbag pieni d'acqua ok ma soprattutto non gli è mai scappata la cacca con quel freddo ad alta quota è impossibile che non gli sia scappata la cacca quindi è molto irrealistico magari è tipo hai un sistema di riciclo interno assolutamente è iper tecnologica probabilmente potrai farti la cacca addosso e verrà convertita in energia tra l'altro letteralmente in Iron Man 2 a un certo punto dimostra come tipo lui può andare in bagno dentro la tuta è vero allora adesso devo guardarmi ok se il 2 risolve questo problema sono soddisfatto aggiungerò una fetta di pizza adesso devo andare a vedermi tutti gli altri film dell'MCU fino ad arrivare a Endgame che lo vedrà nel 2035 in realtà è il mio programma ho deciso che li voglio guardare pian piano con la mia flemma degli anni e vabbè quindi è un film molto poco realistico che a un certo punto però sì cosa sì il problema è che ok va bene a un certo punto ti abitui alla sua coerenza interna solo che a un certo punto decide di boh andare verso una conclusione che hanno deciso a priori e cioè che il il suo compare cattivo diventa un power iron man grosso ignorando completamente tutte le conseguenze di questa scelta iron monger sì ma una fra tutte perché lui inizia a voler uccidere tutti cioè lui vuole fare l'uomo di affari si sta rovinando la reputazione tantissimo sì sì è vero assolutamente vero è come se avesse visto la fine del film e ha detto vabbè alla fine il cattivo muore quindi tanto vale che spacchi 100 autobus e no è che Tony Stark vuole rompere tipo l'impero del vendere le armi e diventare una persona che non vende più strumenti di morte al miglior acquirente è un multimiliardario effettivamente tipo scendere in strada dentro una giga armatura per scazzottarsi non è tipo la strada che intraprenderesti probabilmente no no vabbè signor Bezos le quotazioni di Amazon stanno scendendo preparate il mio carro armato volante ma non dobbiamo tipo convocare la board per tipo prendere delle decisioni ho detto carro armato volante non dimenticatevi il mio fegato wireless eh sì allora qui nel nei miei punti ho scritto spero che non ci facciano un sequel però non fa più ridere perché abbiamo già parlato dei sequel quindi un film meh però c'è Drugo che fa il cattivo quindi gli do sette fette di pizza con la besciamella ok cioè nel senso solo besciamella dai pomodoro mozzarella e besciamella ah ok ok perché è una pizza stramba potevi fare il cuore di besciamella potevi metterla al centro no è solo no no perché deve essere deve essere un'esperienza la pizza non deve essere la rappresentazione di quello di cui sto parlando ehi non puoi insegnare a Nick come si fa una pizza esatto per favore comunque mi farò sapere quando guarderò gli altri film di questo impero sembra molto promettente ti prego sì e secondariamente mi fa ridere che cioè nel senso tu che sei la persona meno critica verso certi aspetti di solito hai deciso di essere hypercritico sulla verosimiglianza di un film della Marvel cosa è che lui è l'unico supereroe che non è che ha un superpotere non è l'unico dannazione ci sono svariati ok no va bene non è l'unico però dico se dici la spiegazione è sono Thor sono un dio elettrico ok pica pica va benissimo però la spiegazione è che lui è super intelligente e costruisce la scienza un minimo di base realistica me la stai ponendo tu e quindi mi poni tu il problema di farmi le domande ed è a quello che serve il cuore magico faresti che tu non venga a rompere le scatole con la verosimiglianza scientifica tra l'altro tu non hai calcolato secondo me quello che è il problema più grande della scienza di Tony Stark e di Iron Man che è il fatto di come fa a non prendersi delle concussioni terribili tutte le volte che zigzagga è letteralmente la prima cosa che ha detto no ah ok scusami ogni volta che zigzagga mentre vola lui cambia direzione continuamente le forze non funzionano così e c'era un episodio di Because Science che era quella serie di Youtube che spiegava i superpoteri dei supereroi con la cosa più vicina che abbiamo a nostra conoscenza nella scienza che paragonava il fatto che si potesse creare all'interno della tuta un sistema incredibilmente simile a quello dei picchi che si rivestono il cervello di lingua quando tirano le testate non prendono delle commozioni cerebrali è bellissimo ve lo linko dopo è incredibile questa cosa airbag di lingua era stata già la mia idea all'inizio di questa recensione comunque spoiler il finale di quel video è letteralmente tipo tutto è spiegabile con airbag dentro la tuta fine airbag cuore usb state zitti miliardi di dollari bene allora siamo giunti alla fine anche di questo episodio se vorrete esplorare più a fondo i temi e la scienza di Iron Man ci ritroviamo nell'after show prima di concludere è il momento però dei ringraziamenti per tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo podcast che sono due categorie di persone che sono la redazione di Storytel no scusa ci sono tre categorie di persone voi che ci avete ascoltato fino a qua Storytel che ha sponsorizzato questa puntata e all'interno dei patron che supportano Power Pizza i calzoni che sono quelli che un giorno o l'altro verranno rinchiusi in un istituto psichiatrico perché sono iper pazzi ma che possiamo ringraziare perché con il loro impegno economico permettono il prosperare di questa nazione della pizza quindi grazie a Glauco Tronchin la botte piccola tempo Nicky e Maesh Paolini Subramania Psycho Light e soprattutto no non lo dico sì io e basta non lo dico il re dei cani e soprattutto il re dei cani questo misterioso benefattore grazie anche voi che ci avete ascoltato che è sempre il supporto più grande che ci potete dare assolutamente ci trovate come al solito su www.powerpizza.it in alternativa sul nostro account instagram at powerpizza podcast 111 222 333 oppure come dicevo prima ogni tanto streamiamo dei giochini e lo facciamo su twitch powerpizza.stream a volte oltre ai giochini facciamo power tech andate a recuperare lo stream di apple silicon max con power sio interesting tech things che niente ho fatto uno stream per guardare l'evento apple dei computers grazie sio grazie nick grazie a voi e alle vostre belle facce grazie lorrino e grazie alla pizza e ci sentiamo nell'after show per i nostri pizzetars da lorro nick e sio pizza e chiudo non lo dirò mai ciao pizza e chiudo pizza e chiudo anche per nick ciao l'hai detto svariate volte comunque esatto il mio mai è molto relativo ragazzi non lo dirò mai vuol dire non lo dirò adesso fondamentalmente